Ben ritrovati sul mio canale di YouTube, lo so, i miei capelli fanno p***e, purtroppo è l'effetto della quarantena Comunque, in questi due mesi di quarantena ero in dubbio se far uscire o non far uscire i miei vlog perché nei vlog andiamo in giro e invece bisognerebbe stare a casa e alla fine li faccio uscire Cosa ho fatto in questi due mesi di quarantena? Principalmente niente Ma a un certo punto ho detto, figata questa cosa che tutti fanno le dirette Ma proviamo a farle in un modo più stiloso ed è per questo che ho messo in piedi il mio canale di Twitch Lo so, è un po' eccessiva ma volevo fare le cose fatte bene Comunque su Twitch possiamo fare un sacco di cose, potete guardarmi mentre gioco i videogiochi Possiamo parlare, interagisco con la chat eccetera eccetera, posso invitare tanti ospiti simultaneamente Posso fare un sacco di cose, quindi mi raccomando, il link in descrizione, premete, cliccatelo Iscrivetevi al mio canale di Twitch, mettete la like tipo c'è un cuore o subatevi come preferite Perché da questa sera, da stasera, io inizio a streamare come un drago E non mi fermo più raga, nessuno mi fermerà mai più da questa cosa perché sono gasatissimo Bene a questo punto colleghiamoci con il me del passato che ha un sacco di cose da farvi vedere che non vi ha mai fatto vedere Sì, ciao Fabio del futuro, mi trovo in questo momento nel passato a Los Angeles Noi dovevamo partire quattro giorni fa, ma abbiamo prolungato la nostra permanenza in quel di Los Angeles Perché Will Smith mi ha scritto e mi ha invitato all'anteprima di Bad Boys for Life E quindi... Ok, stiamo andando alla premiere di Bad Boys for Life È da quando ho dieci anni che sognavo questa cosa Allora ti fai contento La noteprima di Bad Boys for Life È da quando hogliato la nostra frenza in quel di Los Angeles E poi está in quel di Los Angeles Quando hoatenuti Ciao re Cause zestagne La noteprima di Bad Boys for Life Body Magari di Bad Boys for Life Adesso arriviamo a 3 Cos'era il mondo Grazie a me del passato Grazie mille Ci sono un sacco di cose che non faccio vedere su YouTube Un po' come quella volta che ho sfilato durante la Fashion Week con Jack Black Grazie mille Lo so, dovevo farvelo vedere prima Comunque facciamo un salto nel passato, torniamo a Natale Torniamo a molto prima della quarantena, torniamo al compleanno di Karen Oggi è il compleanno di Karen Il regalo è un viaggio e sto cercando da quattro giorni di non farle sapere assolutamente dove stiamo andando Non si sa ancora se sarà un regalo di merda Mi giuro che ho appena evitato il dramma Lei è sempre con le cuffie e deve tenere la destra bassa Secondo me qua ci giochiamo alla sorpresa Abbiamo superato lo scoglio dell'area di Raga Che vi giuro è impossibile, è pieno di schermi Ci sono ai palbini, scherzo, ho spento qualsiasi cosa, non esiste più un monitor acceso Tutto ciò, visto che non può fare nove ore e mezza con le cuffie guardando in basso Gli comunicherò la destinazione con l'annuncio del capitano all'aereo Ma non dico cinque volte Sei un ruolo Ho preso un hotel 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 Vivo Casi l'incredibile Comunque ho pensato Ma non sarà così sceno che mi porta a New York quando siamo a Los Angeles Della settimana dopo Invece Ce la sono con me Amore già Colpa del sole Ma il sole Adesso ci aspettano nove ore e mezza di volo Sono felicissimo, io amo New York Siamo arrivati a New York Raga fa un freddo devastante Siamo appena arrivati in hotel Questa è la vista Questo è Central Park E that's New York Merry Christmas Andiamo nel museo dell'Empire State Building Dove è apparso questo Vabbè andiamoci Sì Amore ti prego vai a fare la foto con la mano di King Kong No, 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 c'è troppa gente che guarda Eccola, eccola signori Sì Spaventata, spaventata Sì All'ottantesimo piano, sei contenta? Andiamo, l'unità di arrivare Ed eccoci qua Che spettacolo E adesso la vera domanda è Where is Waldo? It's here Raga, siete pronti a vedere la foto più trash della storia? Sai che manca poco? Ma no, no, sto male La frase di oggi è Cazzo corri oggi Ma la vera notizia di oggi è che Mi è venuto un raptus e stavo per lanciarmi il caffè in faccia Ma perché? C'è un bisogno primordiale di lanciarmi il caffè in faccia Amore scusa non ho capito Dov'è che vorresti andare adesso? A Times Square, Times Square, Times Square, Times Square Stanno sudando le ascelle E' un post con tantissimi cartelloni Molto belli Ed eccoci qui signore e signori Nel post con più advertising della storia Allora visto che nessuno di questi brand mi paga Ho deciso di censurare tutta Times Square Oh mio Dio, questo è fantastico Ragazzi Charmander sembra Maurizio Costanzo Siamo nel negozio della Nintendo ragazzi C'è un Game Boy danneggiato nella Guerra del Golfo che funziona ancora Non c'è vita Un momento nostalgia incredibile Adesso stiamo andando al Rockefeller Center Che è il posto più natalizio di New York Un abbraccio di Elsa Stava cascando la testa Quanto è Natale? Scusa ero immersa nella magia del Natale Quasi in imbarazzo per l'eggessivo spirito natalizio Mi sono ufficialmente innamorato di questa scultura E sono delle lucine dell'albero di Natale giganti Lì girano Jimmy Fallon Comunque nel nostro hotel c'è una cosa che ancora non abbiamo capito molto bene Cioè quando prendi l'ascensore Dentro l'ascensore c'è una tizia che preme per te il tasso dell'ascensore Ma qual'è il senso? Potendo osservare il servizio Praticamente arriva Fani tu Prendi per te E poi rimane con te in ascensore Ma perché? Per non affaticare le dita Ma dici Allora io ho prenotato Dan Museret Ma colpo di scena Karen ha una proposta E io ho paura Perché le proposte di Karen non sono delle proposte Sono tipo amore Io vorrei fare questo Ma se non lo fai ti uccido Paura perché le mie proposte secondo me Vanno caga schifo Sentiamo questa merda anche vai Sparala Il mio sogno di stasera Rendere un hot dog da una pancarella Aspetta aspetta non ho finito Girate Ragazzi ho capito di cosa stiamo parlando Vai E poi andiamo a mangiarli A Central Park seduti su una panchina Mentre guardiamo le persone che partirono sul ghiaccio Al buio Ma dove ci sono le persone che partirono sul ghiaccio c'è la luce Non succederà mai Ma in che modo è romantica questa cosa? Un incubo della vita Grazie per non realizzare i miei sogni Ma qua abbiamo una delle città più belle del mondo Con tante possibilità Tanti ristoranti Tanti bei posti bellissimi Che in Italia non abbiamo E poi Possiamo mangiare un hot dog Di fianco al palaghiaccio Perché tu non capisci la bellezza delle cose semplici Se la voglio fare domani a pranzo io ci posso stare Ma adesso al buio della Central Park con meno 3 gradi Cioè Promesso Promesso È tornato il fischio al naso Mettiti un secondo davanti allo specchio Ora fai finta di volare come un uccello? Scusatemi per queste riprese Non vorrei farmi venire una fame della madonna Ma è inevitabile che io filmi questa figata Hai 25 anni amore Buongiorno Buongiorno La sindrome del naso che fischia è tornata Ancora Oggi come promesso Andremo a Central Park A pattinare A A mangiare un hot dog per pranzo Parco Sempione Verde e marrone Dentro la mia città Va troppo freddo Cioè sembra di stare tipo in Norvegia Si stanno congelando i peli del naso No ma è una roba Devastante Cioè sta entrando Nei pori della pelle che non sapevo di avere Cioè sta morendo E giustamente In una fantastica giornata in quel di Central Park Perché non disegnare delle mucche? Disegna anche tu Mucche Per combattere il freddo I'm in love with my squirrel Che carino Ciao Oddio ciao Oh mamma mia Oh mamma mia No No Non Non No Bello Giuro che ancora due minuti lì e mi arrivo assiderato Sotto il ponte di baracca Presidente Io adesso voglio che se mai pubblicherai questo video Voglio che nei commenti scrivano se non sembri un cono gelato con questo cappello Intanto monto io questo video quindi non verrà inserito a questa parte Effettivamente sembra un cono gelato Siamo di nuovo in quel di Central Park Perché vorremmo farci una foto carina Bellina Da postare sui social Ma fa un freddo della madonna Durerò l'autonomia tipo di 10 minuti Ragazzi è baggato lo scogliato Ma sto mantenendo la mia promessa E stiamo per mangiare due hot dog Dai dai facci vedere come fai Ecco io invece ho preso un umilissimo hot dog Come avevo detto Infatti era meglio hot dog Ho sbagliato io Scusate questa è una ripresa generica del tramonto Ma io amo questa città Stiamo andando a fare una cosa segreta Urla dal naso A presto! Ha! C'è una ripresa generica del tramite Comunque io non so quali sono le controindicazioni di un elicottero Ma Karen Lasciami in pace Oddio un attacco di piccioni killer Stiamo preparando la valigia Perché oggi it's the last day Andiamo al The Ground Zero Che è il posto in memoria delle torre gemelle Cioè dove c'erano le torre gemelle E subito dopo andiamo allo zoo del Bronx Sono molto triste di lasciare questa stanza Amore tu sei contenta di partire? Vabbè Ci siamo stati via tre giorni Possiamo avere queste valigie amore Ed ecco a voi i bufaloni Sono bisonti I bisontoni Guarda l'amore Guarda l'amore Ma Ma cosa cazzo Ma Scusi Qua bro Qua per protesta gli uccelli gli hanno cagato sul vetro Io non ci voglio stare in gabbia Vi cago dappertutto Questo è un topo cerbiatto Quanto è tenero oddio Ti do tutti i miei soldi Comunque questo sembra gru di cattivissima E lui è l'uccello brunetta Onorevole mi scusi Onorevole Ed ecco a voi la rappresentazione fedele ed esatta Di come mi sento dopo il cenone di Natale E' pieno di uccelli ragazzi Sembra Brazzers E' matto E' matto E' matto Un uccello Super Mario Ma quanto amore Oddio sta vomitando Questo uccello Ma ha vomitato Ma ha vomitato una cosa E niente questo era il mondo degli uccelli Ma vediamo quali altre emozioni ci regala questo zoo Cervi e cigni E questo è un idrante dell'Himalaya Un pericolo attraversamento tigri Ma niente si sono incastrati i due cervi Ragazzi io non so cosa succede qua a New York Però io ho di nuovo la sindrome del naso che fischia Welcome to the Jurassic No Tiger Mountain Octopomo no Thermal problem Ma che spettacolo totale Che spettacolo Scusate raga mi fischia il naso Comunque le tengono qua per preservarle Perché i bracconieri le uccidono per la pelle E potete osservare al suo interno dei comunissimi pesci brutti E questo è uno speciale camion Che conteneva la carne che mangiava George Bush Beh comunque nei bagni dello zoo Puoi cambiare di pannolino al tuo koala Per il tuo piccolo koala che si caga addosso Bellissimo Potreste portarmi una bottiglia di chardonnay Ed eccoli qua Che fanno la differenziata Perché è importante mantenere pulito il parco Ma Non ho fra A destra ci sono delle capre sarde Quello lì è un babbuino fan dei Tokyo Tell Sta male Ma Ma hai visto che hai fatto l'acrobazia l'indietro? Ma si ma è pazito E' importante distinguere la plastica dalla carta Perché poi se mette la plastica nel posto della carta Succede un casino e bisogna rifare tutto da capo Quindi ragazzi seguitemi E' la raga siamo qua con il mio amico che si pavoneggia E adesso di fronte a questi fantastici pitoni Karen ci regalerà l'emozione della scena di Harry Potter Amore l'hai buggato Si sta schiantando contro la luce Cosa fa? Tartaruga dal naso lungo Fra Non sembrano molto amichevoli comunque Sembra un Pokémon Ma cosa sono le tartarughe con il collo più lungo che abbia mai visto? Bellezza misto malinconia E questo era il magico zoo del Bronx E questo è il mio regalo che ti abbiano mai fatto Non ha confermato Beh comunque se vi piacciono i vlog di soli viaggi Scrivetemi nei commenti se volete altri E attivate la campanella Cosa manca adesso? Lasciate un like Comunque importantissimo Seguitemi su Instagram E niente No, I can't wait I wanna get you one more time I really wanna cross the line I do it all before I die I can see you just one more time